Giovedì 20 aprile si è svolto a Torino un nuovo workshop d'infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Titolo della giornata è il futuro dell'edilizia, progettare e riqualificare l'edificio impianto in chiave sostenibile. Oltre 250 architetti hanno partecipato alla giornata di formazione. Tante le aziende presenti che hanno potuto presentare le novità presenti oggi sul mercato. Presentiamo la gamma completa dei climatizzatori invisibili dall'esterno, quindi le soluzioni tecnologiche che consentono al progettista di poter effettuare la giusto dimensionamento degli ambienti di climatizzazione sia invernale che estiva senza per questo dover sottostare i vincoli architettonici dati dalle strutturazioni dei centri storici con la stessa efficienza e la stessa resa che dà un climatizzatore nazionale ma con la possibilità di inserire le motocondensanti all'interno di locali tecnici quindi con una completa invisibilità esterna e impatto architettonico zero. Come novità presentiamo delle condensanti acquaria, inverter, che adottano la stessa tecnologia dei climatizzatori tradizionali, quindi la modulazione sul compressore che consente di limitare i consumi dell'acqua fino a oltre un 50% rispetto alle stesse macchine di una volta che erano tutte on-off. Quindi ci presentiamo sulla platea dei professionisti, questo è il terzo workshop che facciamo quest'anno insieme a InfoProgetto e andiamo avanti fino a quasi alla fine dell'anno toccando varie tappe d'Italia. Grazie